Che la colore soit... Mesdames, Messieurs, la colore è presente sur les écrans e vous le voyez dans ces fleurs magnifiques offertes par le Conseil Federal, ce dont je vous remercie. Quale capo del Dipartimento Competente, sono lieto d'inaugurare oggi la nuova era che si apre nel campo della televisione svizzera con l'introduzione di quei colori che rendono l'immagine più palpitante di realismo, più armoniosa, più conforme alla natura stessa delle occhio, che è fatto per apprezzare la ricchezza dei contrasti e la delicatezza delle sfumature. La svizzera, fidele ai suoi principi federalistici, deve e vuole pensare sempre alla minoranza d'espressione italiana e realizzare la possibilità di fruire degli stessi diritti di cui godono i confederati d'oltre gottardo. Signore e signori della Svizzera italiana, ci rivolgiamo a voi in questa serata, in cui ufficialmente si apre un nuovo e fascinante capitolo della nostra televisione. Vi invitiamo quindi a seguire il programma inaugurale a colori, che prevede dapprima la diffusione di Olida in Switzerland, la prima realizzazione televisiva a colori effettuata negli studi di Zurigo. Si tratta di una retrospettiva in chiave ironica dello sviluppo dell'industria alberghiera svizzera. Grazie a tutti!